In dirittura l'arrivo e i lavori allo stadio Guido Biondi. Entro la settimana i lavori dovrebbero concludersi con un ampliamento dei posti di circa 900 unità e un costo complessivo di 360 mila euro, di cui 60 quelli investiti dall'amministrazione comunale, il resto dati dalla Regione. Ora la parola passa alle valutazioni sull'agibilità e sicurezza e al via libera che dovranno esprimere i tecnici sulla struttura. Confidiamo che per l'ultima partita di campionato, quando i nuovi spalti saranno inaugurati, ha dichiarato l'assessore Davide Caporale raggiunto i nostri microfoni. Il sindaco Pupillo, che si trova ora in Canada, sta seguendo comunque tutto l'iter con l'agibilità, un argomento che questa amministrazione ha dovuto affrontare spesso sia per lo stadio che per l'ipodromo Villa di Lerosa e senza dimenticare il teatro Fenaroli. Massima fiducia comunque per i lavori fatti a norma e secondo tutti i parametri di sicurezza e per questo non dovrebbero, e sottolineiamo non, dovrebbero esserci problemi per l'ok finale. La parte dei distinti, che sta da una settimana che è stata iniziata la procedura del montaggio, dopo che c'era stata quella dello smontaggio della vecchia struttura, comporterà un'altra settimana di lavoro per l'assemblaggio completo dei distinti. Poi inizieranno tutte le procedure, l'iter, burocratico, fino ad avere poi il nulla osto e l'autorizzazione da parte dei vigili del fuoco. Noi siamo convinti, auspichiamo, non voglio dare date sbagliate, ma sicuramente la Virtus Lanciano potremo inaugurare questo settore dei distinti del Guido Biondi prima della fine del campionato e permettere ai tifosi di vedere la struttura, che comunque loro già dalla prossima partita in casa potranno vedere, ma vederla completa finale, perché è una bellissima struttura, parliamo di una struttura che avrà 900 posti in più a sedere, in maniera completamente diversa da quella di prima, dotata di sediolini, con una scritta che non voglio anticipare, e secondo me darà quella salvezza, o perlomeno ci farà festeggiare la salvezza, della Virtus Lanciano. Grazie a tutti.